Una soluzione che permette di risolvere con semplicità i costi quasi nulli le controversie tra imprese e consumatori. Casa Artigiani Taranto ha sottoscritto il protocollo di conciliazione con Feder Consumatoria di Consume Ad hoc, che coinvolgerà le imprese associate che ne faranno richiesta. In caso di controversie tra consumatori e aziende artigiani scritte, un caso tipico è quello degli installatori e manutentori di caldaie, le parti potranno evitare il percorso giudiziario e rivolgersi alla commissione paritetica di conciliazione che sarà istituita nella sede di Casa Artigiani. L'intesa è stata presentata dal coordinatore regionale Casa Artigiani Stefano Castronuovo, dalla coordinatore di Taranto Rosita Giaracuni, alla presenza dei vertici locali di Adiconsume, Antonio Bosco, Feder Consumatori, Maria Antonietta Brigida e Ad hoc Domenico Votano. La possibilità di andare in conciliazione prima di evolvere nella questione giudiziaria, quindi un risparmio per le aziende, un risparmio per i consumatori, ma allo stesso tempo la tutela delle associazioni dei consumatori e delle associazioni di categoria per entrambe le parti rappresentate. Una giustizia a basso costo senza ricorrere ai tribunali che sono già intassati e con i costi che porta alla giustizia ordinaria. Questa è un'operazione che è costo zero e viene fatta in tempi molto brevi perché entro 60 giorni della presentazione della domanda deve essere risoluta. eliminare tutte le azioni anche stragiudiziali che noi facciamo grazie a questi interventi di conciliazione magari lo facessimo con tutte le altre aziende.